Nuovo appuntamento con Telesuona, siamo nuovamente in studio, così come siamo soliti fare ogni settimana per discutere, come voi tutti sapete, di un fatto, di una notizia, di un percorso, ma anche a volte di una persona che con il vissuto rappresenta qualcosa, insomma ha da dire delle cose. Questa sera ci occupiamo un po' di tutte queste cose messe assieme, partendo naturalmente dalla pubblicazione di un libro che è significativo per il taglio scelto, per le premesse che lo caratterizzano e probabilmente anche per gli obiettivi, lo scopriremo da qui a poco. Ecco, perché ringrazio per aver accettato il nostro invito Adriana Tomann, poi del libro parliamo tra un attimo, Adriana Tomann come la devo presentare come sottopancia, diciamo come si dice in gergo televisivo, quale qualifica devo mettere? Guarda, io non ho mai avuto il coraggio di qualificarmi perché ho sempre ritenuto che darsi delle etichette tipo artista, cose del genere fossero delle manifestazioni di presunzione e di cattivo gusto, quindi io mi sono sempre definita modestamente un operatore culturale. Un operatore culturale, ma diciamo il libro di cui discutiamo questa sera, dei contenuti di questo libro, il libro è Pregiudizio di Stato, è un titolo molto forte, adesso capiremo perché questo titolo e queste pagine, questa fatica letteraria che è anche una fatica di documentazione, si occupa in buona sostanza di quello che viene definito il caso Oliverio, perché insomma Adriana Tomann, per chi non lo sapesse, ha un percorso a fianco all'ex Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio. Allora, la prima domanda proprio di ordine assolutamente generale, perché pregiudizio di Stato? Allora, innanzitutto io devo fare un preambolo, devo ringraziare l'editore, la Città del Sole che ha avuto la premura di decidere di pubblicare questo libro, nonché Otello Rupacchini che ha deciso di fare la prefazione. Allora, questo libro ha due sottotitoli, ti faccio osservare. È vero, è vero. Tu hai detto il secondo sottotitolo, ma il primo sottotitolo è Quell'Italia, Sovranità Limitata, perché in questo libro so di deludere magari un pochettino, è vero, le aspettative di chi vuole vedere qualche nuance romantica, non c'è nulla di romantico in questo libro. Qui dentro si parla... Tutt'altro direi. E' alimentato, ahimè, anche continuamente, verso la Calabria. Poi all'interno di questo pregiudizio si è articolata la vicenda di Mario Oliverio, Presidente della Regione, ma ricordiamoci che Mario Oliverio non è solamente Presidente della Regione Calabria, è Mario Oliverio, che è un'altra cosa, perché ha fatto per dieci anni Presidente della provincia, è comunque una persona che ha avuto come missione la sua vita quella di rappresentare il popolo. pubblico e politico. Esatto. Ora, diciamo, naturalmente parleremo anche di questo aspetto e diciamo partirei proprio dalla vicenda Oliverio, no? E' meglio, c'è questa tendenza a voler... No, 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 ma la contestualizziamo. Vediamo, vediamo, ti seguo. La contestualizziamo, perché naturalmente, diciamo, la lettura, io ho letto questo libro che è interessante per quanto riguarda anche e soprattutto l'attività di documentazione e di contestualizzazione, di una parentesi che è stata per la Calabria e per l'Italia una parentesi storica e politica particolare. Dicevo, il caso Oliverio nasce in un determinato momento, anzi faccio un piccolo inciso e poi passo dalla domanda, nel senso che la lettura complessiva del libro dà, come dire, l'impressione che legittimamente si voglia ripercorrere il percorso di Mario Oliverio alla guida della regione rivendicandone risultati e meriti. Questo mi pare in buona sostanza, diciamo, un obiettivo, no? E' vero, in un tramonto ognuno, come in un'alba, vede quello che vuole vedere. Noi possiamo fare una istantanea del sole sull'orizzonte e possiamo farlo passare come alba o come tramonto. Quindi io ti devo dire che il fatto di poter guardare attraverso il dietro le quinte, stare dietro le quinte e osservare determinate dinamiche, mi ha fatto assemblare tutta una serie di pezzi, cioè che lo Stato sia stato latitante nei confronti della Calabria e non abbia ottemperato i suoi doveri nel fare le infrastrutture che avrebbe dovuto, non è una questione che doveva scoprirla Oliverio. Certo. Quindi sono tutte quante cose che stavano, da quando sono venuta in Calabria io, perché io sono venuta in Calabria con la storia delle bacche di Fanfani, che poi qualcuno se vuole che le raccontiamo, le raccontiamo, però quella è pure storia. Quindi che la Calabria sia marginalizzata e che venga alimentato questo gap di sviluppo è una cosa che purtroppo sta sotto gli occhi di tutti e che la gente paga quotidianamente. Ti interrompo, però. Fammi finire, paga e soprattutto paga nel settore della sanità, perché è nella sanità che si concretizza di più il disagio che si prova per avere una sanità che non è efficiente. Noi abbiamo dei limiti oggettivi come regione, però la domanda, visto che hai introdotto questo tema, è sostanzialmente questa. Il pregiudizio di Stato o il tentativo poi concreto per molti versi di marginalizzare la Calabria dipende dallo Stato o dipende anche dai calabresi che hanno selezionato evidentemente una classe politica pluridecennale, poco adatta a rappresentarla. Allora, innanzitutto noi abbiamo avuto... Io non penso che a Roma ci sia una cabina di regia per cui dice a sti sporchi, brutti e cattivi calabresi li lasciamo marginalizzati. È evidente che il gioco delle dinamiche nazionali è un gioco di lobby, di interesse. Allora, il gioco a cui tu ti riferisci è un gioco che si realizza attraverso il controllo delle elezioni, perché noi non siamo in grado di eleggere i nostri rappresentanti come vogliamo perché ci vengono imposti da Roma. Non ti dimenticare che la Calabria ha una tradizione, ha avuto una tradizione di grandi rappresentanti. Mancini, Misasi, sono figure che quando io ero piccola mi ricordo che stavano costruendo proprio la Calabria, hanno lasciato tracce importantissime. Allora, la Calabria in questo momento è privata di rappresentanza perché a me sembra, e questo io lo scrivo nel libro, che con il pilotare, attraverso il controllo che si mette in atto delle persone che devono poi alla fine rappresentare la Calabria, non è che ai cittadini mi è data molta scelta. La Roma manda giù determinati nominati che magari pochissima aderenza hanno col territorio, che conoscono molto poco della terra che dovrebbero rappresentare e che più delle volte sono affini a quelle che sono le dinamiche romane. Cioè a Roma sappiamo benissimo che c'è tutto quanto un sistema che tra l'altro si può frequentare, si può osservare, ma non occorre necessariamente esserne assorbiti e farsi soggiogare da questi metodi. Però questo comporta avere dei valori molto chiari e ben saldi. vero, però c'è una specificazione ancora ulteriore, nel senso che mentre il rappresentante Lombardo, sia esso di centro-sinistra, centro-destra, in alto, in basso, di lato, però ha storicamente, lo si può leggere anche nei provvedimenti, nei percorsi, ha come faro l'interesse Lombardo, pur nelle distinzioni. In Calabria questo accade, cioè si riesce o meno a fare sistema, per esempio parlando non solo della deputazione, ma dei vari livelli di rappresentanza politica. Alcuni esempi ci sono stati, penso ad alcuni emendamenti sui lavoratori socialmente utili, eccetera, in cui dai diversi partiti il calabrese, rappresentante della Calabria, fa sistema con l'avversario politico che comunque è calabrese, quindi individua un terreno comune. Però purtroppo questo non è che accada sempre, anzi accade molto raramente in Calabria. Ma io da quello che posso vedere in questo momento, a me sembra che venga vissuto da una parte delle persone che rappresentano la Calabria, la rappresentanza politica come un'occasione. Questo è purtroppo effettivamente, da questo punto di vista me ne vengo a quello che tu dici, però questa ricerca della persona che mette a primo posto l'occasione per se stesso e non la valorizzazione o comunque i problemi del territorio che hai chiamato ad affrontare, è una cosa che viene purtroppo controllata. Io non credo che in Lombardia, come tu mi suggerivi, ci sia un sistema che permette il controllo così capillare delle eventuali candidature, così come lo vediamo in Calabria. Io ho la sensazione che in Calabria si approfitti un pochettino molto di questa situazione. Bene, questa cosa la riprenderò dopo in relazione ad una domanda che riguarda la sanità. Allora, dicevo, andiamo ai contenuti del libro, naturalmente senza spoilerare troppo, perché insomma per chi volesse basta acquistarlo. Lo si legge per intero con molto interesse, perché poi molti di questi elementi fanno parte della nostra storia recente calabrese, con un'ottica, come evidenziava la Tomanna poco fa, con un'ottica del dietro le quinte, di chi ha informazioni evidentemente di prima mano, di primissima mano. Sì, perché diciamo che non è che abbiamo avuto un sistema di informazione molto alleato, abbiamo avuto un sistema di informazione che molte cose non le ha fatte passare. Ne parliamo. Allora, la vicenda di Mario Oliverio nasce qualche anno fa, quando con la celebrazione delle primarie sostanzialmente Oliverio è il candidato di centrosinistra. Ottenere queste primarie, viene raccontato nel libro, è un esercizio abbastanza complicato, perché insomma nel PD la possibilità di fare le primarie in Calabria non era una possibilità vista di buon occhio. E mi sorprende anche, mi ha sorpreso anche questa indicazione nel libro, senza tanti fronzoli, cioè Oliverio vince le primarie con il 75%, gli viene chiesto di dire che è il 55%. Ora, perché mi ha colpito? Perché io la notte delle primarie, di quelle famose primarie, facevo la spola tra la segreteria diciamo del regionale del PD e la segreteria di Callipo a Pizzo. E quindi insomma sono interessato a sapere, ho visto dati farlocchi. Evidentemente sì. Diciamo quei dati erano farlocchi. E' quello che hanno chiesto di comunicare, cioè c'era stata una vittoria col 55%. Ed era il 75%. Era il 75% contro il 25%. Bene. Allora, questo è uno dei passaggi che introduce alla candidatura di Mario Oliverio. Ma in questo percorso, poi c'è una campagna elettorale, lo ricordiamo, in quelle primarie erano tre i competitori, Mario Oliverio, Gianluca Callipo e Gianni Speranza da La Mezzia Terme. Ci celebrano le elezioni, Mario Oliverio come è noto vince queste elezioni, ma prima di arrivare alle elezioni c'è questo tentativo di coinvolgere a tutti i costi il nuovo centrodestra, per chi non lo dovesse ricordare, il partito, insomma, Angelino Alfano, i fratelli Gentili in Calabria, insomma, era quel partito che in quella fase, in quella fase era in qualche modo l'equilibrio del sistema, insomma. E' assenato, sì. Il governo si leggeva su questa disponibilità del nuovo centrodestra di sostenere il governo Renzi. Nel libro viene narrato che Mario Oliverio si oppone alla richiesta di coinvolgere il nuovo centrodestra. Lui entra a Nazareno e andando avanti nel corridoio vede in una stanza due esponenti del nuovo centrodestra. E' rimasto sorpreso e si domandò come mai delle persone del nuovo centrodestra nella sede del Nazareno e dopo poco scoprì che questa era la domanda che gli stavano per fare, cioè inserire nelle liste per la sua candidatura alla presidenza della regione, appunto, una lista che facesse capo anche al nuovo centrodestra in Calabria. Dunque, minacce di ritirarsi, l'operazione non va in porto, il nuovo centrodestra infatti in quella competizione elettorale, insomma, allestì una sua proposta politica ed elettorale per i calabresi. Però sostanzialmente si ricava da queste pagine la sensazione che il mancato coinvolgimento del nuovo centrodestra nella compagine di Oliverio sia sostanzialmente stata la premessa che è poi indotto a non far toccare palla a Mario Oliverio su un tema cruciale per la Calabria che è appunto la sanità. Sono due fatti correlati o è solo la sensazione della lettura che dà questo indirizzo? No, credo che fosse collegato, assolutamente, sì. C'è un collegamento perché in effetti in quel periodo al nuovo centrodestra facevano capo personaggi che avevano controllo della sanità e credo che ce l'abbiamo tuttora in alcune province della Calabria. Volevo chiedere perché nel libro viene documentata una delle attività che è stata svolta dal Dipartimento Salute durante la presenza di Mario Oliverio ed effettivamente quella attività è un'attività meritoria, l'avere individuato i pagamenti non dovuti o in alcuni casi doppi rispetto a delle prestazioni eseguite. Ma non dovevamo non spoilerare il libro? No, vabbè, ok. Qualcosina la dobbiamo dire. Ma queste sono le chicche più belle. Vabbè, ma questo però è un dato di cronega, l'abbiamo pubblicato anche noi, quindi questo è un dato di cronega. No, però questa vicenda dice che alcune cose sono state fatte, però insomma complessivamente lì la presidenza della giunta regionale era sostanzialmente estromessa dalla gestione concreta della sanità in Calabria proprio perché la struttura commissariale aveva delle prerogative che erano molto forti. Oliverio cerca di diventare commissario, viene sostanzialmente, perdonami l'espressione, preso per i fondelli da Renzi. Questo è il tema. Sì, diciamo, allora diamo un input perché non voglio lasciare gli spettatori con la bocca Amara. Allora, cosa succede? Che il dirigente del settore del Dipartimento della Sanità, Antonio Beccastro, viene a prendere atto purtroppo che c'erano una serie di conti che non tornavano. Faccio un esempio. Venivano mandati come pagamento come operazioni di alta specialità, tipo cuore aperto, interventi di neurochirurgia con costi molto alti e degli interventi che poi hai notato che avevano solo due, tre giorni di degenza post-operatoria. Dicono, è possibile che una persona che viene operata al cuore, a cuore aperto, ha una degenza di solo due, tre giorni? Va a controllare bene e scopre che erano state operazioni molto diverse, tipo un'ernia inguinale, che costa 2.500 euro. E alla Calabria veniva fatto pagare un conto di 30, 40, 25, 35 mila euro per operazioni molto più costose, che però non erano mai state fatte. Quindi questo non è il problema della sanità. No, certo, però è una spia. 50 milioni l'anno che venivano spillati, ma non attraverso meccanismi di malavita organizzata o cose del genere. Venivano spillati approfittando di un sistema che hanno messo in piedi di compensazione tra le altre regioni, che si chiama Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria. Ve la dire, la Lombardia ha delle persone che vengono in Calabria in vacanza. Durante la vacanza succede per qualche cosa per cui hanno bisogno di andare in ospedale. Vanno in ospedale in Calabria e la Calabria manda il conticino di questa prestazione alla Regione Lombardia. Capite bene che essendo la Regione Calabria la principale esportatrice di malati, perché la Calabria esporta il 20,5% di malati l'anno nelle altre regioni. Facendo questo c'è un torrente di Danaro che va verso Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia. È un fiume di Danaro che appunto va in più a questo fiume di Danaro che già va perché le nostre strutture non vengono adeguate, vengono lasciate in condizioni da Terzo Mondo. No, da Terzo Mondo no, ma insomma Bulgaria, così. A questo torrente in più si aggiungeva pure questa, diciamo, contabilità un po' allegra. Diciamo che è la spia di un sistema, insomma. Oliveri doveva diventare commissario della sanità, dicevo Renzi, insomma, cito sempre il libro sostanzialmente De Luca diventa commissario della sanità. Commissario e Renzi prende per i fondelli Oliverio, nel senso che insomma garantisce qualcosa che poi non accade con l'approvazione della legge, non spoileriamo davvero tutto, però c'è un tema di fondo. Noi lo abbiamo detto molte volte, molte volte nel corso dei nostri approfondimenti. Se c'è una pagina vergognosa della Calabria, questa pagina è rappresentata proprio dalla nomina dei commissari ad acta da parte del governo per governare appunto la sanità calabrese, verrebbe da dire uno peggio dell'altro, qualcuno addirittura un caso clinico, perché insomma abbiamo avuto commissari che erano tecnicamente un caso clinico, abbiamo avuto un altro commissario, lo ricorderete, che insomma raccontava delle attiviste cosentine, che il Covid non si trasmetteva nemmeno con un bacio, insomma bisognava, delle pagine veramente, folclore, delle pagine da cabaret, peraltro gravi, perché io ricordo di aver intercettato il commissario Zuccatelli proprio appena sceso dal treno, insomma l'ostinazione anche a non rispondere, quindi da questo punto di vista quella pagina è una pagina vergognosa. Ma era stato mandato lui giù come se fosse un pistolero, uno sceriffo, lo sceriffo, vero? Era lui. Però il tema qual è? No, sai perché? Perché abbiamo sempre avuto la sensazione che mandassero giù questa specie di sceriffi come se il problema non fosse un problema di sanità e di tecnici preparati che potessero affrontare il problema per risolvere le situazioni incresciose che si sono create in Calabria, tra l'altro con 18 ospedali chiusi. Ma sembrasse sempre un problema di ordine pubblico, è come se noi fossimo un far west e questa cosa non va bene. No, beh certo sì, in alcuni casi è un problema di ordine, diciamo un problema proprio di gestione, di legalità, in alcuni casi, nel governo complessivo evidentemente no, insomma un conto è rispettare le leggi, un altro conto è governare un sistema complesso come quello della sanità, però in quella fase noi ricordiamo alcune prese di posizione, Oliverio sa che la genesi è questa, sa che il Consiglio dei Ministri doveva nominarlo commissario della sanità, non accade, il tutto nasce nell'ambito del suo partito e degli interessi del nuovo centrodestra, a un certo punto la gestione della sanità in Calabria è quella che si vede e in un momento Mario Oliverio dice vado ad incatenarmi davanti a Palazzo Chigi. Io c'ero quando disse quella frase, tono roboante, diciamo grande forza nell'esprimere, anche Paonazzo in volto, poi non accadde nulla, probabilmente anche nella interlocuzione con Roma e con il governo, alle parole dalla Calabria non sono seguiti i fatti. Allora, quello è stato l'errore, errore con la E maiuscola, è stato un errore perché lui quando Gentiloni, perché c'era Gentiloni al governo a quel momento, gli ha telefonato o meglio, credo che abbia telefonato la segretaria e Gentiloni per cercare di mettere un freno a questo pericoloso meridionale che stava per andarsi a incatenare là davanti, ha deciso di non mettere a rischio gli altri progetti che aveva in corso, perché Oliverio stava lavorando alla realizzazione per mandare in porto proprio la ZES. Non solo, c'era tutta un'altra serie di progetti che aveva in corso, come infrastrutture, come il megalotto che collega Sibani, eccetera. Poi ci stava la ferrovia ionica, c'erano investimenti molto importanti che stavano andando avanti, c'era una trattativa per riuscire a portare soldi in Calabria. e quindi lui, di fronte al Consiglio, come si chiama, alla Presidenza dei Consigli dei Ministri, che gli dice fermati un momentino, ci organizziamo, ci vediamo a quattro occhi e ne parliamo, e lui in quel momento ha perso quella che è stata la spinta che mi dicevi tu, paonazzo in volto, perché poi ci stanno anche questi meccanismi psicologici che uno deve sentirsi profondamente motivato per fare una cosa. E lì l'ho visto frenare io. Io mi ricordo benissimo di quei giorni, io mi ricordo di quei giorni, mi ricordo delle mie preoccupazioni, del mio stato d'animo, perché ho vissuto come uno stato di sospensione. Lo farà, non lo farà, cosa sceglierà di fare? Perché poi non parlava, non mi spiegava tutto allora, mentre vivevamo le circostanze, poi me la spiegate dopo. Anche perché lui doveva maturarle. E per lui, diciamo che fare quella scelta di non incatenarsi per non mandare all'aria il buon rapporto che tutto sommato su altri fronti c'era col governo, è stata una scelta di razionalità che ha prevalso sulle motività. L'ha già qualificato un errore, proprio in ragione del fatto che… Ma un errore, scusami se ti interrompo, un errore che ha condizionato la storia della Calabria in maniera non da poco. Penso anche alla storia di Mario Oliveira in Calabria, no? Sì, non solo in Calabria, ha condizionato proprio la storia anche a livello proprio di proiezione nazionale. Sai perché lo dico? Perché qualsiasi presidente della giunta regionale paga uno scotto altissimo della sua presenza al governo della regione e del suo appeal elettorale sul tema della sanità. Cioè, una strada è importantissima, l'elettrificazione di una ferrovia è importantissima, ma alla fine, come verifichiamo anche noi dal feedback che abbiamo dai lettori, la sanità è dirimente, è valso per Oliverio e varrà anche per occhiuto alla fine dei cinque anni. Quello che si riesce a realizzare nel comparto della sanità e quindi rispondere alla domanda di salute dei calabresi è decisivo su quasi tutto il resto. È solo che c'è una fondamentale differenza. Certo, occhiuto il commissario, è evidente. Occhiuto il commissario il giorno dopo. Oliverio con tutto che anche De Luca era stato inserito nel provvedimento che ha fatto in modo che De Luca diventasse commissario della sanità, hanno fatto in maniera di non farcelo diventare. Anzi, ti ricordo che c'è stato quel consiglio di ministri, è vero? A Reggio Calabria, è vero? Veramente folclore mediterraneo. Sono venuti giù e alla fine con questo decreto salva Calabria hanno semplicemente aumentato di 70 mila euro cada uno gli appannaggi per i commissari. No, tra l'altro, ormai questa è storia, il decreto Calabria versione originale, anche quello bis ha complicato parecchi aspetti, alcuni dei quali ancora oggi rappresentano uno. La ministra Giulia Grillo, che se avrai letto con attenzione il libro, è vero, è stata protagonista di un'altra situazione estremamente, diciamo, folcloristica, perché l'unica riunione a cui la Regione Calabria finalmente ha potuto partecipare col ministro alla sanità è stata una riunione sul tema del randagismo. Va bene, comunque ti consento le stoccate e le battute, però questa cosa della sanità è evidente che è stato probabilmente uno degli obiettivi mancati del percorso di Oliverio, anche perché è difficile spiegare all'esterno, considerando che Oliverio era uno dei protagonisti del Partito Democratico. Con una stampa non sempre amica? Vabbè, è la seconda volta, ne parliamo tra un attimo. Ne parliamo tra un attimo. Il libro tuttavia va avanti nel ripercorrere questo percorso e a un certo punto siamo partiti dalle primarie, quindi non farle perché Oliverio non era il caso che fosse lui il prescelto per la Calabria. Abbiamo attraversato il tema della sanità, sebbene per titoli, naturalmente perché non possiamo svelare tutto il libro, il tema della sanità e poi c'è un altro elemento. In mezzo ovviamente c'è tutta l'elencazione delle iniziative che Adriana Thoman ritiene e scrive essere meritorie nella guida della Presidenza Oliverio. Il terzo punto di approdo è la, come dire, la fucilazione per via giudiziaria del percorso di Mario Oliverio, con intanto una definizione che è molto forte, fake investigation, sostanzialmente indagini fasulle. È un'affermazione molto forte, allora, questa affermazione è molto forte, poi scendiamo nel dettaglio di alcune di queste cose che scrivi. Fake investigation perché sono costruite in modo da creare appeal, sono una fake news, mi pongo sempre il problema se devo dire new a singolare o news a plurale, una fake news facciamo da singolare, viene costruita in modo da solleticare gli aspetti, diciamo, più pruriginosi di solito e siccome è falsa, essendo falsa e non aderendo alla realtà, uno ci può mettere dentro qualsiasi cosa per renderla più appetibile, per darle più appeal. Aspetta, ti sto facendo la genesi di fake investigation, dove siamo partiti, quindi la fake news è fatta e costruita in questa maniera. La fake investigation, nella quale Oliverio e anche tante altre gente si trovano, perché le fake investigation non è che sono né di oggi né recenti, sono fake investigation in Calabria, mi sembra che ne abbiamo da vari decenni, anche perché viene utilizzata come set cinematografico per far esplodere carriere di magistrati e anche diventare politici, quindi è un set cinematografico già pronto. Le fake investigation sono costruite in modo da avere dentro i loro elementi più appetibili e purtroppo non ultima, anche quella nella quale è stato coinvolto di recente, il 27 di giugno, in cui si è trovato, utilizzato il suo viso Oliverio, per creare visibilità e un'inchiesta che altrimenti probabilmente non ne avrebbe avuta. Quindi ci sono elementi che vengono utilizzati per rendere sul piano della comunicazione più potente il messaggio. Quindi non sono costruite, perché poi alla fine se uno viene assolto, vuol dire che già a priori probabilmente sapevano che questa persona... Diciamo, poi parliamo anche della manipolazione delle intercettazioni telefoniche, di cui abbiamo avuto prova. No, diciamo, c'è un elemento di fondo secondo me, è importante metterlo a fuoco subito, no? Perché più volte nel libro, e quindi vengo, si parla di circolo mediatico che alimenta questa impostazione. Ora, in realtà, come dire, tutto dovrebbe essere, tutto dovrebbe svolgersi nella normalità, no? Una procura della Repubblica, quale che essa sia, fa delle indagini, nelle indagini vengono coinvolte delle persone, alcune delle quali arrivano a processo e a condanna, altre non arrivano nemmeno al processo in tante circostanze. Questa è la dinamica, diciamo, dell'indagine e del processo. Quello che si verifica attorno a questa dinamica, no? E anche la ricettività particolarmente sensibile da parte dell'opinione pubblica, soprattutto quando sono i coinvolti politici, è una sensibilità che, perdonami l'obiezione, in Italia è stata introdotta con un grande protagonismo proprio dalla parte politica di cui Oliverio faceva parte. Questo è successo ai tempi di mani pulite e non è cambiato più nulla. E quello è stato un percorso sbagliato, ma io su questo non ho dubbi su questa cosa. È stato un percorso sbagliato che ci ha privato, tra l'altro, di guide che erano riferimenti importanti, su questo ormai non abbiamo più dubbio. Perché da quel momento in poi tutta la politica e anche chi aveva pensato di utilizzare questo sistema è stato poi travolto da questa ondata che poi è diventato il giustizialismo populista che ha pervaso in quel periodo in cui Oliverio era al governo della regione, diciamo che abbiamo avuto proprio il clou del giustizialismo populista che era al governo. Quindi è chiaro che ci siano degli errori storici, non ci sono dubbi. Certo. Il tema è le analisi sul ruolo degli organi di stampa, no? Nel senso che i giornalisti, così come i giornali, allora faccio un esempio proprio pratico pratico. Se tra 5 minuti Adriana Thoman, in preda ad un raptus di follia, si alza e decide di picchiarmi, è evidente che il giornalista che sta dall'altro lato o in studio qui, è chiaro che ha l'obbligo, il dovere, insomma, deve fare di tutto per rendere nota questa circostanza. Così accade nelle indagini. Nelle indagini, quando nelle indagini, al di là del racconto normale, no? Che riguarda, soprattutto quando si tratta di criminalità organizzata, le dinamiche, le persone, ma se in determinate inchieste, viene coinvolto una persona o una personalità che ha un ruolo pubblico e politico, è evidente che l'attenzione degli organi di stampa deve essere ancora più intensa. Adesso faccio una domanda io a te. Secondo te è normale che una persona che viene eletta dal giorno successivo alle sue elezioni si trova col telefono messo sotto controllo? Se c'è il telefono sotto controllo ci sarà stata una determinata procedura che ha consentito l'autorizzazione di quello. Non ti viene il dubbio che forse era semplicemente propedeutico la costruzione di un'indagine? Purtroppo noi abbiamo dovuto toccare con mano che così è stato. Una regia che ha governato più e più indagini finalizzate a colpire le vie? Una persona, un giornalista di grandissima fama e molto importante di cui non posso fare il nome però a noi ci ha detto ricordatevi che dietro a queste persecuzioni c'è sempre un mandante. E ci sarà stato un mandante anche in questo caso dice? Ma io penso di sì. Al punto da costruire tre diverse inchieste? A maggior ragione, ma forse anche cinque. Penso che ha preso il numero, erano cinque. Però quattro diciamo sono quelle, c'è stata una operazione, l'Ande Desolate, che è stata quella probabilmente più impattante. La più impattante, perché è stata la prima, forse non è anche la prima, però è stata quella più impattante, senz'altro. Però prendere atto che all'interno dei fascicoli, domanda provocatoria. All'interno dei fascicoli mancavano delle carte, veniva incriminata una delibera perché si diceva che era incompleta, perché mancavano la pagina 2 e 4 e poi vai a vedere che nella delibera la pagina 2 e 4 c'erano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Nella dinamica delle indagini ci sono molti elementi, c'è l'attività di polizia giudiziaria, c'è poi naturalmente l'attività di coordinamento, l'attività di indagine del pubblico ministero, l'attività di coordinamento dell'ufficio complessivo di procura, insomma è un affare complesso l'indagine. Ma la domanda provocatoria, deliberatamente provocatoria è, ma davvero Oliverio era così importante da dover imbastire 4, ripeto 4 se non 5 inchieste per frenare la sua corsa? Ti rispondo con due cose, allora la prima, in fin dei conti era così importante tanto da non fargli toccare palla sulla sanità, come mai De Luca l'hanno fatto commissario della sanità e Oliverio no? Due. La seconda, noi purtroppo in Calabria non abbiamo Sofia Loren e quindi non avendo Sofia Loren che è un personaggio è vero fuggido da perseguitare, si sono arrabbattati a perseguitare quelli che avevano, da una parte Mimmo Lucano e dall'altra parte Oliverio. Mimmo Lucano è un altro soggetto, un'altra figura che è stata perseguitata perché brillava troppo di luce propria, anzi diciamo che lui ancora di più è stato utilizzato per scopi mediatici. Anche il precedente presidente della giunta regionale ha avuto una vicenda giudiziaria, in quel caso conclusa con la condanna. Ma non mi sembra che sia stato perseguitato perché era presidente della regione, è stato perseguitato come sindaco. Sì, ma Agazzo Loiero sì però. Non mi sono, ti devo dire la verità che su Agazzo Loiero non ho studiato la situazione. Però diciamo. Ma diciamo che c'è un'abitudine probabilmente a cercare di mettere in luce le proprie indagini, di dare visibilità. Agazzo Loiero è stato assolto. Certo, ma io non sto dicendo che. Ancora peggio, ancora peggio, diciamo facciamo l'analisi così al momento. Ancora peggio perché vuol dire che vengono utilizzate queste figure per dare risonanza mediatica di indagini che altrimenti non ne avrebbero. Altra domanda provocatoria, affermazione domanda. O forse non è che l'impasto delle cose in Calabria è così complicato, così malmostoso che probabilmente chi assume su di sé un ruolo di grande responsabilità come quello della presidenza della giunta regionale in un contesto difficilissimo e con un sistema del governo regionale dove spesso e volentieri è difficile distinguere il grano dall'olio. Non è possibile che sia questo l'humus che poi porta al coinvolgimento negli approfondimenti giudiziari? Allora questo è un modo per una interpretazione per bypassare il fatto che ci sia un pregiudizio nei confronti della Calabria. No, ne stiamo parlando. No, no, lo bypassa. Lo bypassa e ti voglio dire anche un'altra cosa. Questo non è un problema che riguarda solamente le cariche importanti di personaggi come un presidente di regione. Sta riguardando puntualmente anche il primo cittadino di città importanti, i primi cittadini di città importanti della Calabria e tocca in continuazione anche i primi cittadini di comuni della Calabria. Quindi questo è un metodo proprio che viene utilizzato. A me sembra, ad esempio, che il Ministero degli Interni ci vada un pochettino con le mani pesanti sulla Calabria in virtù del pregiudizio di Stato che esiste sulla Calabria. Perché commissariare i comuni con tanta leggerezza viene fatto come se fosse quasi d'ufficio, perché è meglio commissariare anziché evitare di farlo. Allora, sul commissariamento dei comuni, se ne parla anche nel libro, la storia calabrese ci racconta che quel meccanismo non funziona. Non funziona per una semplice ragione. Intanto perché ci sono diversi comuni dove i commissariamenti si susseguono nel tempo. Per cui il primo di sicuro non ha prodotto. Mi fa piacere che tu ne prenda atto. No, 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 ma noi, no, ma per carità. Ma tra l'altro perché anche in questo caso la responsabilità però non è né dello Stato inteso come articolazione né della magistratura. La responsabilità è nel Parlamento. Perché quella legge sullo scioglimento dei comuni è una grande stupidata. E lo spiego perché. Perché nel momento in cui si colpisce l'assemblea elettiva, ma come ci raccontano le relazioni delle commissioni di accesso non si tocca, si lasciano completamente indenni le strutture burocratiche dei comuni dove spesso e volentieri c'è la reale e concreta infiltrazione. È evidente che questa dinamica... Ma che sia infiltrazione o che sia semplicemente malaffale senza infiltrazioni di natura indranghettistica perché il problema è sempre questo. perché anche il comune reato diventa automaticamente reato di natura mafiosa. No. Corruzione può essere corruzione, un'altra cosa può essere corruzione per motivi mafiosi. Non c'è dubbio. Sono delle cose diverse. Invece qua si fa di tutta l'erba un fascio, su questo mi devi dare altro. Certo. Che diventa tutto indrangheta. Tutto indrangheta. C'è un tema che è molto importante su questa vicenda e che lega anche le due circostanze, sia le relazioni delle commissioni di accesso che invece le vere e proprie inchieste giudiziarie. E qual è questo tema? Lo dico diciamo avendo ai noi per abitudine una certa inclinazione a leggere queste migliaia e migliaia di carte. Insomma, in molte di queste circostanze o non si arriva al processo o si arriva al processo e poi si giunge ad una soluzione. Addirittura in alcuni casi interviene un provvedimento di archiviazione. Sai qual è il tema? Il tema è che in quelle carte qualche volta, molte volte, mettiamola così, non ci sono reati. E quindi naturalmente il percorso è quello che abbiamo descritto sin qui. Il problema è che viene descritto ed appare, dalle intercettazioni ambientali, insomma dalle scelte, un malcostume diffuso che non è necessario che arrivi nel reato, no? Però questo ci restituisce l'immagine di un contesto che è veramente complicato. Io ho letto personalmente delle ordinanze dove era difficile poi alla fine, no? In relazione a determinate circostanze, avere una qualificazione giuridica di un reato. E però lo spaccato che emergeva era uno spaccato di una desolazione morale incredibile. Guarda, che sia un sistema, un impasto complesso la regione Calabria, la Calabria, la Calabria, e non lo metto in dubbio. Io ho percezione in alcune zone, avverto di più questa pressione, ma è una pressione che io posso avvertire sul piano culturale. Questi sono i tipi di percezione che io ho. Perché io non ho strumenti di natura legale per dare una lettura di natura giuridica delle cose. Io do una lettura sul piano culturale. Sul piano culturale io questa cosa la vedo. Però ti devo anche dire un'altra cosa, che la vedevo molto più impastata prima rispetto ad oggi. E io vedo che in questo momento ci sta una generazione che sta emergendo, che sta cambiando i connotati della Calabria. E se noi dobbiamo mettere in condizioni di fare in modo che la Calabria diventi terreno nel quale vivere, lavorare, produrre, dobbiamo fare proprio per questi giovani che oggi, ma neanche tanto giovani, neanche persone di 40, 45 anni, io vedo che ci sta un livello culturale che è cambiato. La Calabria non è quella di 30 anni fa. Non è quella di 40 anni fa, non è quella di quando sono venuta io. Quando io sono venuta a Cosenza, si fermavano alle casermette. Ah, molto prima delle casermette. Per arrivare alle casermette dove ci stava la sede dell'esercito, si faceva un tratto di strada con la Vespetta, perché allora io mi portavo, ero piccola in Vespetta. Via Panebianco. Cioè non c'era niente, assolutamente. Quindi un conto è la Calabria di allora, un conto è la Calabria di oggi, che è un insieme di persone che hanno strumenti di informazione, strumenti per evolversi, che sono infiniti. E tra l'altro vedo dei giovani, l'altro giorno ho avuto modo di incontrare dei giovani in Reggio Calabria, splendidi. Certo, no, vabbè, questo è ovvio. In ogni caso a Oliverio andò male con Renzi, andò male con Gentiloni, ma anche Zingaretti. E quindi come? Era un po' sfigato. No, 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 sfigato Oliverio. No, tendo a dire sfigato nell'interlocuzione con il PD. Allora, no, diciamo che lui non è esattamente una persona accomodante, però bisogna anche dare atto che il periodo con Renzi e del governo Renzi è stato un periodo nel quale si è costruito molto bene, perché poi lui aveva la possibilità di interloquire con dei ministri, paradossalmente anche con Del Rio, non è che si piacessero moltissimo, però con Del Rio poi sono riusciti a fare delle operazioni sulle infrastrutture. Non va dimenticato che se adesso c'è la fermata ad Afragola e si bypassa Napoli centrale, e quindi da Paola oppure da Reggio Calabria si arriva con un'ora di meno di treno a Roma, è per quello, per quel periodo di storia lì. Si sono messe le basi anche per la costruzione della ZES con De Vincenti, con il ministro De Vincenti. Guardi, ci sono... Hanno avuto dei rapporti molto positivi. Ci sono degli elementi... Correnzi è stato un periodo estremamente positivo. No, ma certo, ma ci sono stati anche degli elementi, ora non vorrei apparire anche agli occhi dei telespettatori come quello che per forza, diciamo, deve fare emergere le negatività di quella stagione politica e amministrativa della Guido Oliverio alla presenza della Giunta di Milano. Anche perché noi vogliamo ricordare, appunto per dimostrare alla nostra buona fede, è vero, che in quel periodo i fondi europei sono stati spesi fino all'ultimo centesimo, tanto che l'Unione Europea ha dato un premio alla regione di 142 milioni di euro, per aver speso bene i fondi europei, perché è stata la prima volta che è successo nella storia della Calabria. Io stavo per citare un'altra cosa che è un chiave prospettica, invece è molto importante, ed è appunto il piano dei trasporti, insomma, licenziato proprio dall'Aggiunta dei Professori. insomma, ci sono state delle cose positive. Nel libro vengono citati molti elementi, no? Una piccola parte, sì, perché l'editore mi ha dato... Mi sono appuntato la vicenda del bando Borghi, 100 milioni per 359 comuni, che nel libro tu presenti chiaramente come una iniziativa importante, omettendo però di dire che quel bando è cambiato in corso d'opera, nel senso che la genesi originaria di quel bando probabilmente era decisamente migliore di quella che poi arrivò a Valle con una estensione della platea dei comuni. Su quel bando poi sono verificati, insomma, ricorsi, contro ricorsi, insomma, si è bloccato un po' di cose. Quel bando è stato parato nel 2019, quando lui era alla fine del suo mandato. Però c'è un'altra cosa in quel bando che ti prego di non dimenticare, che è fondamentale. Quando si parla di giovani che non devono andare via, che non devono scappare, benissimo, in quel bando c'era per i privati c'erano previsti 36 milioni di euro e ai giovani sotto i 29 anni che avessero presentato dei progetti fino a 70 mila euro veniva dato il contributo a fondo perduto al 100%. Quindi quello era, diciamo, per la giovane imprenditoria giovanile sotto i 29 anni un'autostrada per poter avere il progetto completamente finanziato. che ha servito l'altra obiezione su un piatto d'argento. Vero è, vera è questa circostanza, altrettanto vera è che il bando giovani nel contesto del piano di sviluppo rurale si è concluso l'altro giorno a distanza di anni, anni e anni. Ma perché la macchina burocratica è spaventosa. Ma sulla burocrazia, andiamo verso la fine. È una macchina burocratica che va stimolata, ti voglio fare un proposito della burocrazia all'interno della Regione. No, perché questo era un light motive di Oliverio. Ti voglio dire una cosa importante. La burocrazia. La burocrazia all'interno della Regione. Va sottolineato che tendenzialmente Roma, come mandava ai commissari, imponeva anche i certi dirigenti, certi consulenti esterni, strapagati, che avrebbero dovuto controllare, ad esempio, la spesa comunitaria o cose del genere. Giulio Oliverio, in quel periodo, ha recuperato completamente le competenze all'interno della Regione. Ha recuperato le competenze all'interno della Regione e le ha messe a regime. Tant'è vero che poi i fondi sono stati spesi perfettamente, ma non grazie a consulenti esterni che venivano mandati a Roma, ma grazie a dei bravissimi calabresi competenti. Tant'è vero che nel processo Lande desolate, oltre a colpire Oliverio, hanno colpito proprio queste persone che si occupavano dei fondi comunitari. Quindi quando hanno voluto colpire Oliverio, non era solamente di colpire lui come persona, ma colpire la sua azione politica per impedirgli di mandare a termine il buon lavoro sui fondi comunitari. I fondi comunitari sono stati bloccati perché l'Unione Europea ha voluto vederci pulito, hanno chiesto di fare dei controlli, si sono fatti tutti i controlli al 100% su tutti quanti i progetti e il risultato era tutto quanto in ordine. In ogni caso, perché anche in quel caso c'erano le considerazioni di Mario Oliverio, Presidente della Giunta regionale, sulla burocrazia, riguardavano la burocrazia interna alla Regione, con toni molto duri e tra l'altro, per esempio, altra piccola obiezione, fu varata con tanta fatica una riforma della burocrazia regionale un po' tiepida. Si poteva essere un po' più coraggiosi, ma insomma, poi le tecnicalità, non scendiamo nelle tecnicalità. Ci sono delle cose che vanno fatte in maniera graduale. Ti ricordo sempre anche un'altra cosa, che quella famosa legge sui vitalizi, ecco, la famosa legge sui vitalizi, hanno cercato di farla passare due giorni dopo che lui è stato mandato all'obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, lui l'ha bloccata pure quella volta, dicendo chiaramente, guardate che io mi dimetto, non per l'Ande Desolate, ma mi dimetto perché voi state cercando di fare questa porcheria di questa legge sui vitalizi, e la legge sui vitalizi, appena Oliverio è andato via dalla Regione, è stata approvata in tre minuti. La vicenda ultima vede Mario Oliverio sostanzialmente alla fine del suo percorso alla guida della Giunta regionale con l'intenzione di riproporsi e quindi di ricandidarsi. Devo dire che tecnicamente in quella fase Mario Oliverio aveva tutte le ragioni di questo mondo, nel senso che un Presidente della Giunta regionale uscente ha tutto il diritto di sottoporsi al giudizio degli elettori e non al giudizio dei dirigenti del suo partito. Quindi da questo l'impostazione metodologica è perfettamente lineare e coerente. Nel libro viene citata questa adunata di sindaci calabresi, anche in quel caso c'ero, quindi so quello di cui si scrive, che sostanzialmente incitavano Oliverio a... È una domanda, lo so, un po' antipatica. Ma hai davvero la... Avevate e hai davvero la sensazione che Mario Oliverio, come scrivi nel libro, stesse andando verso una riconferma se fosse stato candidato? Sì, questa cosa io penso... Non sai perché lo dico? Faccio la battuta e poi mi rispondi. Perché anche il precedente Presidente, lo iero, era assolutamente convinto di questa cosa e ostentava proprio il ruolo dei sindaci che sostenevano, evidentemente, Oliverio, piccola nota da cronista, ma nel pomeriggio, la mattina, nel pomeriggio incontravano Scopelliti. Cioè, hai veramente... Perché sai, il potere... Capisco, capisco questa cosa, la posso capire. Però, di fatto, al di là di quello che io possa credere, prendendo atto che una certa operazione che rinasce da Scott, se non sbaglio, è stata messa in atto proprio nel periodo delle elezioni regionali e che è stato messo agli arresti domiciliari il capo della coalizione che stava sostenendo Oliverio, diciamo che è stato comunque un condizionamento di natura giudiziaria su una cosa che noi non sapremo mai come sarebbe andata. Perché quello che io posso pensare è una cosa, quello che tu possa pensare un'altra, ma la realtà sta di fatto che noi non avremmo mai potuto verificare come sarebbero andate le cose. Sta di fatto che la magistratura si è messa al mezzo e in un modo o nell'altro ha messo in atto una sorta di golpe. Però possiamo dire che... Certo, però rinascita Scott non è che sia stata pensata per inquinare il percorso elettorale, i 338 imputati, insomma... 338 imputati e anche 365 giorni in un anno per farla, per vararla, è vero? Sì, va bene. No, in questo caso... Allora, nel caso... Ma quando tu, proprio quando c'erano le elezioni regionali, ma come mai? Ma nel caso però... E come mai hanno coinvolto proprio il incarnato? No, nel caso... Che oggi ha saputo... No, 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 no... Alcuni giorni fa ha saputo di essere assolto. Esattamente, infatti stavo per dare questa come indicazione, nel senso che... Ha saputo di essere assolto. dei livelli politici in rinascita Scott sostanzialmente non ha retto la prova del giudizio, nel senso che a parte Luigi Incarnato che è stato assolto, ricordiamo che è stato assolto anche Gianluca Callipo, la cui vicenda giudiziaria era parecchio più... Dolorosa, perché ha fatto anche alcuni mesi di carcere. Parecchio più complesso, peraltro con una richiesta da parte dell'ufficio di procura spaventosa, molto pesante, quindi diciamo poi è evidente che c'è sempre il giudice a Berlino, il tema è come... Ma guardi che abbiamo anche il giudice in Calabria, eh? Sa, Toman che è una fine letterata, sa bene che era volutamente una citazione. No, nel senso che probabilmente, probabilmente, a parte dei correttivi che evidentemente possono e devono starci, probabilmente il correttivo più forte, quello più intenso, è un correttivo culturale, no? Che dovrebbe richiamarci allo spirito proprio, no? Delle leggi e della Costituzione. Nel senso che gli avvisi di garanzia, il coinvolgimento in un procedimento giudiziario, non può essere una sentenza anticipata. Ma tu sei garantista? No, questo lo dice la Costituzione. Poi è evidente che... Aggiungo anche, però, che è lo dico questo da giornalista e da cittadino. Aggiungo anche che quando una persona viene raggiunta ad un avviso di garanzia, è del tutto evidente che è appunto a garanzia dell'imputato, dell'indagato, anzi, dell'indagato, non certo una sentenza di condanna anticipata. Ciò non toglie che evidentemente il contesto in cui... Non è più così. Ma certo che non è più così. A livello teorico hai perfettamente ragione. Ma certo che non è più così. Però purtroppo la verità sta nel fatto che la proiezione che viene data di un avviso di garanzia diventa devastante. Ma certo che non è più così. Il mio pensiero, purtroppo, in tutta questa bailamme di operazioni mediatiche o giudiziarie, va col cuore infranto appunto a persone come Gianluca Gallipo, che si sono fatti sette, otto mesi di carcere, un ragazzo. Come possiamo pensare noi di avere un ricambio all'interno della politica con dei giovani se tagliamo le gambe in questa maniera? Quanti anni avevano chiesto? 18? Tanti, tanti. O 18, 20, qualcosa del genere. Questo ragazzo ha vissuto per tutti questi anni sapendo che questa era la cosa che gli pendeva sulla testa. No, certo. Ma è evidente che... Però là, questo è un altro aspetto rispetto all'avviso di garanzia. Diciamo che non è la questione, non è secondo me la questione di essere o meno garantisti. La questione è che probabilmente rispetto a questi percorsi si dovrebbe essere tutti un po' più equilibrati nella valutazione. In ogni caso, ribadisco, molti di quegli avvisi di garanzia si concludono con un nulla di fatto. Ma il contesto che di genera è parecchio sconfortante. Parecchio sconfortante. Perché in alcuni luoghi e in alcuni contesti sebbene non ci siano, ripeto, dei reati è evidente che il sistema complessivo è tale da non farci stare sicuri. Non sto parlando ovviamente di Gianluca Callivo, per carità. Sto parlando in generale. Nel senso che l'avviso di garanzia, il coinvolgimento in un'inchiesta non è evidentemente una sentenza anticipata. però probabilmente non è che sia sempre figlio di un disegno per colpire o stroncare persone o stroncare carriere, no? No, no, però la storia... Diciamo, facciamo in questo caso di tutta l'erba in passione. No, 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 ma la storia ci darà un'analisi. Abbiamo bisogno di tempo. Ci sono delle cose che quando le vedi troppo da vicino non riesci a metterle a fuoco. Questo senza... Quando ti allontani poi riuscirai a mettere a fuoco meglio le cose. E la storia ci darà delle risposte secondo me confortanti da questo punto di vista. Solo c'è un peccato che la storia comporta il passaggio del tempo e si consumano anche le vite. Questo è evidente. E molto spesso non si tiene conto che nel fare queste operazioni su alcune persone hanno un impatto diciamo relativo. Ci sono persone solide dal punto di vista fisico e mentale per cui reggono bene. Ci sono delle persone che ne escono devastate. Ci sono persone che si suicidano. Ci sono persone che si ammalano. Quindi quando gli inquirenti decidono di fare operazioni del genere dovrebbero dimostrare anche di dare del peso adeguato alla dimensione umana delle persone. Io ho visto Mimmo Lucano cosa ha passato sul piano umano. E' stato qui la scorsa settimana al suo posto. E' stato per alcuni anni con 13 anni e due mesi di richiesta di condanna perché è stata la condanna al primo grado. E' stato non vivere. E io ringrazio il cielo che sia ancora sano. Ma io nel libro riporto anche la vicenda di Caterini che è il sindaco che tra l'altro lavorava a titolo gratuito. Era un uomo che faceva il sindaco gratuitamente. ed è stato raggiunto da un'operazione giudiziaria che lo ha devastato e si è ammalato ed è morto. Aggiungo anche un'altra... Sì, io chiuderei infatti con queste... No, ci concludiamo con una cosa un po' più... No, ma queste considerazioni sono interessanti. Cioè, sono anche condivisibili. Aggiungerei anche che non tutti sono nelle condizioni di difendersi. Perché evidentemente non tutti sono nelle condizioni di difendersi. Non sono in condizione di avere avvocati. E certo, è ovvio. E questo ovviamente insomma, complica un po' le cose. Io penso che siamo riusciti a dare un po' un po' di informazioni a suscitare anche un po' di curiosità. Desiderio, è vero di... Come dice Sofia Laura in Accattati Villo. No, anche perché nel libro... Ti ricordi la pubblicità del prosciutto che faceva? Sì, come no. Anche se... Accattati Villo. Anche perché nel libro... Perché dobbiamo sostenere la casa del sole editrice che ha deciso di pubblicare questo libro che è utile innanzitutto per i calabresi. Ecco, siccome diciamo Adriana Toman è di buona scuola insomma, sa farlo questo quindi lo ha fatto da sé diciamo. Va bene, grazie davvero ad Adriana Toman Grazie, grazie a te. Grazie a te.